La sconvitta di domenica scorsa al Vincenzo Presti di Gela ha lasciato l'amaro in bocca in casa bianco scudata. Il calo di tensione nei minuti finali o solo tanta sfortuna ha già lasciato il segno durante la stagione e i ragazzi di Alessio Sferrazza cercano di ritrovare la vittoria domenica pomeriggio al Tomaselli alle ore 15 contro il Cus Palermo, squadra che occupa il penultimo posto in classifica. Compito sulla carta agevole per i bianco scudati che saranno privi dello scolificato di Biase e espulso nel primo tempo di domenica scorsa a Gela. Intanto in settimana è arrivato l'annuncio di Luca Giovannone che dalla prossima stagione diventerà il nuovo presidente della Nissa. Eccellenza, Gilonea, ventiquattresima giornata. Parmonval, Profavara. Agragas, Mazzarese. Casteldaccia, nuova città di Gela. Leonfortese, Don Carlo Misilmeri. Mazzara, Enna. Nissa, Cus Palermo. Oratorio, San Ciro e Giorgio Castellammare. Sciacca, Resuttana.